Lei ha in mente di far giocare la sua squadra in Europa come giocherà in campionato o di cambiarle volto? E se crede che sia una possibilità per arrivare in Champions più facile rispetto al campionato, visto che gli altri si sono rinforzati? Grazie. Posso dire la verità? Mi sembra una bella cazzata. Nel senso, ti sto parlando che è difficilissimo inculcare un modo di giocare una mentalità, una squadra e la domanda prevede che io ci riesca dai lunedì ai martedì, mercoledì mattina. Quindi se la squadra non ha fisionomia, la fisionomia non può rimanere quella, ma all'interno della fisionomia si può parlare di piccoli accorgimenti che possono essere diversi da partita a partita, però cambiare modo di pensare a una squadra da due giorni lo ritengo estremamente difficile. Nel mio modo di vedere calcio, ho visto di tutto, ho visto di più, ho visto vincere e fa esattamente il contrario. Quindi calcio è una delle materie in cui va tutto bene e va tutto male. Però io che ho la fissa e la mia squadra deve avere un'identità e deve avere un'anima, deve avere la voglia di imporre il proprio gioco, faccio fatica a pensare di potergli cambiare la fisionomia in tre giorni. Detto questo, sono uno che studia molti avversari e quindi all'interno del nostro modo di giocare ci potranno essere scelte e atteggiamenti anche diverse, ma senza rifugiare la nostra identità.